ragazzi buongiorno ma l'hai fatto tuo sì anche tu la sarta mi faccia dipingere come di faccia mi profilo seduta sdraiata nuda vorrei provare anch'io perché voglio che mi guardi un altro e mi faccia vedere chi sono voglio vedere come lavora il pittore è come così devi stare attenta anche tu fai la modella lavora in una tele perché una donna deve agire con intelligenza lei non è come logine meno male com'è a fare un uomo ma sei timida non è più bello quando siamo in te invece di stare con quei due che ci trovano con tutte sono l'idea che ti mette in testa l'atomica non so cosa mi sta succedendo non hai paura di toccarmi non ci si abitua cambiamento devi essere felice un'infelicità non serve a niente a a Grazie a tutti